buongiorno buongiorno ed eccoci ritornati con il nostro appuntamento per alice nel paese delle meraviglie nello scorso video vi avevo appunto raccontato di come il libro alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll sia in stretto rapporto con il tema di quest'anno del mio gruppo di lettura cioè il corpo ora vediamo in dettaglio i passaggi riferiti a quanto detto nella puntata precedente cercherò di stare più ferma perché la volta scorsa temo di aver rifatto venire un po di mal di mare perché sono una persona abbastanza cinetica che si muove un po troppo adesso cerco di stare più ferma quindi i brani che vi leggerò sono tratti dall'edizione Mondadori curata da Masolino D'Amico uno dei massimi esperti siamo quindi all'inizio della storia in una calda giornata estiva alice è in riva al fiume con la sorella maggiore che sta leggendo un libro senza figure quindi assolutamente non interessante anzi noioso per fortuna che proprio sotto il suo naso vede passare un personaggio molto particolare un coniglio bianco con guanti bianchi panciotto e orologio da taschino alice gli è subito alle calcagna e via di filato nella tana e da qui all'inizio il suo viaggio giù giù sempre più giù sarebbe mai finita quella caduta alice se lo chiede mentre tranquilla scivola la gonnellina come un paracadute in una lunghissima galleria che pare un pozzo il suo corpo appare qui senza gravità come in caduta libera dentro un'astronave come possiamo immaginarci gli astronavi fluttuare vi dicevo la scorsa volta che Wonderland è sì il paese delle meraviglie ma è anche il paese delle domande e qui infatti inizia a dice apporsene parecchie mi domando quante miglia avrò percorso a quest'ora secondo me mi sto avvicinando al centro della terra mi domando se non finirò per attraversare la terra da una parte all'altra sarà buffo sbucare fuori tra la gente che va in giro a testa in giù agli antidoti mi pare e fu contenta che non ci fosse nessuno a sentirla dato che la parola suonava decisamente sbagliata ecco vedete questo è il primo esempio del libro di come in questo mondo capovolto anche il linguaggio inizi a vacillare finalmente a terra su un soffice mucchietto di foglie secche eccola in un vestibolo e come ogni eroe che si rispetti di fronte a numerose porte chiuse rigorosamente a chiave questo è un topos classico delle fiabe le porte chiuse dietro le quali si celano mondi che scelta farà alice sceglierà la porta più piccina ben nascosta da una spessa tenda e grazie a una chiavetta d'oro che la apre scopre quello che diventa per buona parte del libro il suo oggetto del desiderio siamo di nuovo di fronte a un grande classico dell'umanità e cioè il giardino il giardino dell'eden il giardino in questo caso pieno di fiori colorati e incantevoli ma come fare per raggiungere questo oggetto del desiderio naturalmente come ogni eroe che si rispetti alice dovrà superare alcune prove che per lei saranno appunto le trasformazioni corporee iniziano quindi una serie di gesti reiterati ingestioni di cibi e bevande magiche davanti ai quali noi lettori assistiamo a una vera e propria crisi di identità del nostro personaggio legata ai cambiamenti corporei eccoci qua in pieno tema di quest'anno quindi facciamo un elenco veloce di tutte le trasformazioni che lei subisce in questo primo passaggio prima trasformazione la bottiglina che trova sul tavolino nel vestibolo con su scritto bevimi e diventa piccola seconda trasformazione il pasticcino mangiami e diventa grande enorme disperata perché non può andare a vedere il suo giardino non può passare attraverso la porta si mette a piangere e forma un vero e proprio lago di lacrime terza trasformazione il ventaglio del coniglio eccolo qua lo vedete non so se proprio uguale a suo ma insomma ventaglio del coniglio che tiene in mano decresce diventa minuscola alta 60 centimetri in questo modo scivola nel langhetto delle sue stesse lacrime e esce fuori nuotando dal vestibolo corse elettorale con gli uccelli il dodo il topo insomma tutti questi animali simpatici ritorno del coniglio bianco ritorno del coniglio bianco che la scambia per la sua governante mary anne e la spedisce a casa sua a cercare i guanti vedete come la identità di alice sia ancora molto labile se viene scambiata per un'altra persona quarta trasformazione nella casa del coniglio diventa gigante occupa tutto lo spazio della casa quinta trasformazione per farlo uscire il coniglio butta dentro dei ciotoli che si trasformano in pasticcini diventa piccina scappa finalmente trova il bruco e il fungo i due lati del fungo uno fa crescere l'altro fa decrescere qui raggiunge il massimo massimo della modificazione corporea schiacciata il mento contro i piedi che quasi non può più mangiare il fungo gigantesca sopra gli alberi nel dialogo col piccione che la prende per un serpente lei si difende dicendo ma no sono una bambina e il serpente ovviamente non ci crede dice non ho mai visto una bambina così con un collo del genere poi a forza di rosicchiare i due lati del fungo ecco che diventa della sua dimensione giusta quella di una bambina di sette anni ma nella radura la ricerca sempre del giardino incantato vede una casa molto piccola una mini casetta allora rosicchia ancora una volta il fungo e diventa alta 20 centimetri e siamo alla settima trasformazione niente male su questo tema del corpo e dell'identità vi ricordate la volta scorsa vi parlavo di un sociologo franco cassano qui vi propongo invece un estratto dal libro dal filosofo del filosofo carlosini intitolato il segreto di alice sentiamo cosa dice l'autore c'è un continuo diventar grande piccola minima oppure lunghissima da parte di alice a seconda delle avventure che le capitano il messaggio che è facile ricavare è che non esiste una misura assoluta in base alla quale valutare la realtà un mondo visto sulla base di otto centimetri non è lo stesso osservato a partire da otto metri non ha più lo stesso significato alice fa di continuo questa esperienza straniante e con le sue trasformazioni ci sta dicendo che non esiste un'unità di misura canonica dell'universo e conseguentemente che neppure c'è un unico universo ben consolidato oltre alle misure le cose medesime vengono sottoposte da carroll al gioco di una caratteristica decontestualizzazione ecco allora la candela che resterebbe tale sebbene interamente consumata o il famoso sorriso del gatto senza il gatto perché è già andato via e la regina di cuori che pretende gli venga tagliata la testa quando di lui non è rimasta che quella e il carnefice sbigottito le domanda come posso tagliare la testa senza il corpo e infatti il contesto del corpo che consente di isolare la testa ecco questo erano le parole di sini vedete quante implicazioni interessanti esistono in questo incredibile capolavoro che alice nel paese delle meraviglie e ora bene leggo alcuni passaggi cominciamo dall'inizio siamo all'inizio alice punto è caduta nella tana del coniglio è arrivata in questo vestibolo dove ci sono le porte chiuse e trova su un tavolino di vetro una bottiglina con su scritto drink me bevimi bevimi era ovviamente il titolo del mio primo romanzo avrebbe dovuto essere bevimi al quale io mi sono ispirata infatti la mia protagonista si chiama alice ed è anche il nome del blog che curo con francesca gallesio alicebianconiglio punto it dunque eccoci qua c'è questa bottiglina lei però si preoccupa un po perché dice ma non ci sarà mica del veleno questa bottiglia però non era contrassegnata veleno e alice si arrischiò ad assaggiarla e avendone trovato il sapore eccellente era una specie di miscuglio di torta di ciliegie crema ananas stacchino arrosto caramella mu e pane abbrustolito col burro ben presto l'ebbe finita tutta quanta che strana sensazione direi che mi sto richiudendo come un cannocchiale ed era vero adesso era alta soltanto 25 centimetri attese qualche minuto per vedere se sarebbe diminuita ancora pensiero che la rese un po nervosa perché potrebbe finire con la mia sparizione totale come una candela mi domando come sarei allora e cerco di immaginare come la fiamma di una candela spenta cosa che non riusciva ricordarsi di aver mai visto insomma si mette a piangere si dai consigli di non piangere infatti carroll dice questa curiosa bambina amava molto fingere di essere due persone diverse poi dopo di che ecco che vede una scatolina di vetro sotto il tavolo c'è un pasticcino con la parola mangiami lei la mangia e aspetta già una trasformazione alice si era talmente abituata ad aspettarsi solo avvenimenti fuori del comune che le pareva noioso e banale da parte della vita procedere nel modo consueto così si mise al lavoro e ben presto ebbe finito il pasticcino stranissimissimo gridò alice mi sto allungando come il cannocchiele più grande che sia mai esistito addio piedi ora era alta più di due metri e mezzo e subito afferrò la chiavetta d'oro e si precipitò alla porta del giardino povera alice era troppo grande e ricominciò a piangere versando fiumi di lacrime finché non fu circondata da un vero e proprio laghetto ecco che torna il coniglio perde il ventaglio i guanti perché la vede grande così e si spaventa lei li raccoglie e mentre sta cercando di capire che cosa le è successo si faria quante stranezze oggi pensare che ieri era tutto come al solito che si è cambiata durante la notte fammi pensare ero la stessa stamattina quando mi sono alzata quasi quasi mi sembra di essermi sentita un po diversa ma se non sono la stessa la domanda è chi mai sarò eccolo il grande punto interrogativo e si mise a passare mentalmente in rassegna tutte le bambine della sua età che conosceva per vedere se per caso si fosse mutata in una di loro vedete le crisi di identità cominciano insomma dopodiché lei si sventaglia con questo vantaglietto magico del coniglio diventa piccolissima e cade nel suo stesso laghetto di lacrime esce fuori insomma come vi ho detto riesce a fuggire arriva alla casa del coniglio avventura nella casa del coniglio incontro con il bruco che qua è interessante di nuovo il bruco e alice si guardarono in silenzio per qualche tempo poi il bruco si tosse di bocca il narghilè e l'apostrofò con voce languida assonnata chi sei tu alice rispose un po imbarazzata veramente non saprei al signore almeno per ora cioè stamattina quando mi sono alzata lo sapevo ma da allora credo di essere cambiata diverse volte che vorresti dire spiegati meglio temo di non potermi spiegare signore perché non sono io non capisco e temo di non poter essere più chiara di così perché purtroppo io sono la prima a non capirci nulla e poi cambiare dimensioni tante volte in un giorno solo finisce per scombussolarti parecchio insomma tu credi di essere cambiata temo di sì signore non ricordo più certe cose che sapevo e non e non rimango delle stesse proporzioni per dieci minuti di seguito di chi proporzioni vorresti essere o non ci tengo molto è solo che non fa piacere continuare a cambiare così spesso sei contenta di come sei ora mi piacerebbe essere un pochino più alta signore 8 centimetri è una statura proprio infelice è una statura eccellente disse irritato il bruco era alto esattamente 8 centimetri ma io non ci sono abituata col tempo ti ci abituerei ci ci abituerai poi si mise in bocca al narghile e incominciò a fumare quindi scese dal fungo e si allontano strisciando dicendo solo da un lato ti farà crescere e dall'altro ti farà diminuire un lato di che l'altro lato di che del fungo disse il bruco ecco dunque dopodiché le sue avventure continuano lei incontra il gatto del chisciai il mio personaggio preferito e poi tre matti il cappellaio alle pre marzolina il ghiro e tutti quanti gli altri in una girandola veramente stupefacente di personaggi e felicissime invenzioni bene il tempo scorre molto velocemente il video dovrebbe già essere finito spero veramente di avervi invogliato a leggere questo capolavoro di tutte le epoche e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video che sarà invece accompagnato da un personaggio completamente diverso ciao a tutti